Ho visto Look Back, film anime uscito su Prime Video nel 2024, diretto da Ushiyama, nella durata di un'oretta. Mi chiederete, Nick, come mai hai visto un film anime? Di solito non sei uno molto da anime o da manga o altro, sì, è vero, non sono uno da anime, da manga, io ho visto Malapena Cowboy Bebop Evangelion, Io Amati, gli altri, ci ho provato, non ci sono riuscito, o in generale, tolti i film della Ghibli, o qualcos'altro, magari, che esce in sala, non sono uno che si butta troppo. Però è molto peculiare questo caso, perché Look Back veniva dal manga di un autore che io stimo davvero, ma davvero tanto, Fujimoto. Questo perché? Perché, ok, Chainsaw Man non l'ho mai letto, però l'essi un manga, per stato mio amico, che è un appassionato molto, molto appassionato di manga, che mi ha passato questo dicendo, guarda, è dall'autore di Chainsaw Man, lo conoscevo comunque, è un gran cinefino lui, e questo parla di cine, si chiama Goodbye Ieri, e io, da aver letto Goodbye Ieri, sono rimasto inibito, è un capolavoro assoluto, e per me è uno dei pezzi della narrativa migliori degli ultimi anni, è davvero una roba fuori di testa, pazzesca, e quindi infatti il mio monito è, per favore, fatemi un adattamento di Goodbye Ieri. Però, intanto parliamo di questo Look Back, che ha molti parallelismi, è, prima di tutto, un filmettino di un'ora, che vi consiglio assolutamente, perché è davvero bello, bello, bello. Parla di questa ragazza, che è molto brava, fa, se non il manga è una quinta elementare, molto brava a disegnare, i suoi disegni vengono pubblicati sui giornalini scolastici, ogni volta, e sia professori che genitori che amici sono tutti felici. Quando, a una certa, cominciano a spuntare i disegni di un'altra ragazza, che, appunto, temendo, avendo paura dell'esterno, è richiusa in casa, però comunque è una studentessa. E per questo, diciamo, che lei passa un po' in secondo piano, perché i disegni di questa ragazzina piacciono molto di più dei suoi. E quando un giorno, durante i promi, lei deve consegnare la pagella a questa ragazza qui, scopre che lei, in questione, è una grande fan della nostra protagonista. Tanto che le due iniziano a collaborare insieme per un manga, ecco, partiamo da ciò, una serie di manga su uno squalo. Per me è un prodotto davvero bello, e non parlo solo di animazioni. Questo perché le animazioni sono bellissime, sono scorrevoli. In generale, anche, tra virgolette, la regia, i disegni, il montaggio molto frenetico, ti butta all'interno della storia a capofitto. E riesci davvero, davvero a non sentirli quei 60 minuti. Così tanto che, paradossalmente, forse è il più grande difetto che posso attribuire a questa storia. Io avrei voluto, non lo so, un 20-30 minuti in più sul rapporto tra loro due, che è davvero affascinante. A me ha ricordato tanto, io, la narrativa di Fujimoto, la accosto sempre a un regista in particolar modo, che sapete che io amo tantissimo, Shunji Wai. A me ha ricordato tanto il rapporto che hanno i due protagoniste di A Bride for Rip Van Winkle. Bellissimo film, vi consiglio di recuperare se trovate un modo, ecco. E qui, ancora una volta, torna la riflessione sull'arte. Se in Good Bye Ieri era il cinema qua e il disegno. E' molto più meta, perché appunto si parla effettivamente di un manga. Ed è strepitoso questo, perché ti mostrano bene anche questo giochino effettivamente del cos'è vero, cos'è falso. In certi momenti tu te lo chiedi pure, perché certe cose scritte all'interno vengono adattate. Ed è molto repentina, è molto particolare, ti lascia di stucco in certi momenti. Come il dualismo che c'è tra le due protagoniste, che sembrano quasi un lato e la stessa medaglia, una disegnata da un'altra. E' affascinante questo, è bello come sfrutta bene l'alienazione, come tocca bene tematiche che magari ci possono essere vicine. Però l'idea dell'otaku, l'idea della mentalità giapponese che c'è lì, è molto particolare. In generale io apprezzo tanto quando le storie riescono a far sentirti l'emotività. E questo look back ci riesce assolutamente. E' un racconto delizioso, toccante, per certi versi anche struggente, che ti lascia un senso di armonia circostante davvero forte. Io vi consiglio assolutamente perché a me ha toccato tanto Fujimoto, non avevo dubbi, ero molto curioso. Perché comunque a fare Goodbye Ieri non devi farlo per... non si può fare una roba come Goodbye Ieri per errore, ecco. Sicuramente mi ha sprovato a recuperare roba come Shenzu Man, per quanto io con le saghe stesso, dicasi, per le serie tv sono davvero una pippa. Quindi a una certa mi stanco e chiudo baracca e burrettini. Però in tal caso credo che continui ad approfondire questo artista e il regista di questo, Oshiyama, molto bravo, ha detto che però non ha in mente di fare un adattamento di Goodbye Ieri. Fatelo! No, in generale, apprezzo anche lui, apprezzo molto l'impegno che c'è stato dietro questo progetto che è benissimo animato, è davvero dolce e davvero potente. Io l'ho apprezzato davvero tanto, fatemi sapere la vostra su questo piccolo film che trovate su Prime Video. Io vi dico che se non siete amanti degli anime non è un problema. Io in generale non mi faccio vincoli o problemi, io sono un amante dello storytelling e quindi le belle storie, in qualunque formato siano, a me piacciono sempre. Dipende ovviamente, ogni bella storia si adatta all'arte che la deve raccontare. In questo caso si parla di disegno, un disegno bellissimo, una poesia unica, un racconto di crescita, di formazione e di spirito estero-artistico, di motivazione, nel quale ogni artista credo si ritrova. Indipendentemente se sono appassionato di cinema, vuoi fare il regista, lavoro a vari corti, progetti, tante tante cose, ci sono quei momenti in cui ti senti più giù, ti senti più demoralizzato. Oppure ti ci vuoi buttare a capofitto perché vedi che non sta andando come deve andare o ti aspetti di più, vuoi fare di meglio e magari a volte ti isoli o magari a volte proprio il mondo attorno a te che ti porta ad allontanarti dalla tua arte quando tu vorresti solo rinchiuderti in essa. Quindi per me è un progetto genuino, pieno di mostitività, pathos, spontaneo e toccantissimo. Avrei giusto voluto durarsi di più, per me se ne avrei voluto durare anche 24 ore, però giusto per sviluppare la storia, pur essendo un one shot a quanto ho capito, una storia molto breve, avrei voluto un focus maggiore sulla storia di loro due, anche una decina di minuti. Fatemi sapere la vostra e noi ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.